Il 13 aprile 2021 si è celebrato il 35esimo anniversario della canonizzazione di San Francesco Antonio Fasani, il santo di Lucera, nato nel 1681 e morto nel 1742, che si distinse per le sue virtù durante la vita terrena e per i suoi numerosi prodigi dopo la salita al cielo. Tanti furono infatti i miracoli compiuti dal frate Lucerino nel corso del tempo, ma era il 21 marzo 1985 quando Papa Giovanni Paolo II riconobbe il miracolo che aprì la strada alla canonizzazione del beato Francesco Antonio Fasani. Si trattò della guarigione di una donna di San Severo affetta da una grave malattia. Il Padre Maestro fu canonizzato il 13 aprile 1986 all'interno della Basilica di San Pietro a causa della pioggia. L'anno seguente il Papa Giovanni Paolo II in pellegrinaggio in Puglia si fermò a Lucera per pregare davanti alle spoglie del santo nel santuario di San Francesco. Martedì 13 aprile in Puglia sono stati registrati 13.107 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.191 casi positivi, 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi, 159 nella provincia Bat, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 54 decessi di cui 5 in provincia di Foggia. A Lucera continuano ad essere più di 700 i contagiati, 51.634 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia. Dalla direzione del Policlinico Riuniti di Foggia, firma del direttore sanitario, dottor Franco Mezzadri e del commissario straordinario, dottor Bitangelo Dattoli, è giunta comunicazione al sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, che la riapertura del pronto soccorso, inizialmente prevista ad aprile, è stata posticipata al 3 maggio 2021. Come spiegato nella comunicazione, il rinvio si è reso necessario a causa dell'attuale situazione epidemiologica, con la decisione di rimandare la riapertura agli inizi di maggio, poiché sarebbe un periodo più confacente alla previsione di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19. Il pronto soccorso di Lucera, chiuso da novembre scorso con notevoli ricadute sulle necessità della popolazione, è stato oggetto di lavori di adeguamento strutturale, al fine di predisporre percorsi sicuri che possano permettere un funzionamento più efficace al servizio della comunità di Lucera e dei Monti Dauni. Carla Costantino, segretario generale della CISL di Foggia, ha scritto una lettera aperta alle istituzioni per sollecitare all'azione affinché si esca dalla crisi. È il momento di operare insieme con progetti concretamente attuabili che abbiano una logica di lungimiranza intercettando i fondi del Recovery Plan in modo fattibile, possibile e rigoroso, afferma Carla Costantino, che prosegue. È ovvio che va garantita la sicurezza sui posti di lavoro con i vaccini innanzitutto. C'è bisogno immediatamente di una governance regionale, suggerisce la Costantino, che faccia da cerniera e da coordinamento tra le risorse in arrivo e le esigenze reali del territorio, perché non si ripetano gli errori del passato, con finanziamenti intercettati in modo disgregato. L'occasione del Recovery Plan è decisiva e oltre ai fondi si deve fare leva sul capitale umano per lavorare in rete, in collaborazione, secondo alleanze che favoriscano la concertazione e la condivisione progettuale. Si investa su progetti che creano occupazione, si investa sulla sanità, sulla digitalizzazione, sull'assistenza alla persona, sulla formazione e sulla valorizzazione concreta delle zone e si aprano i cantieri per le infrastrutture, conclude il segretario generale della CISL di Foggia.